Ragazzi, un video flash dove avvisiamo soltanto di non utilizzare questa DAP ShuttleMine.io. Avevamo fatto un video qualche giorno fa, però continuando a cercare prima del lancio informazioni su questa DAP che sembrava aver ricevuto un po' di consensi anche da organizzazioni che avevano analizzato il contratto, abbiamo scoperto però pochi minuti fa che nella chat proprio nel gruppo Telegram dell'azienda che aveva fatto l'audit è stato proprio sottoposto questa domanda, cioè questo audit di ShuttleMine è vostro e loro comunque hanno detto che non è reale, quindi bisogna far fede solo quelle che ci sono sul sito e sul sito non sono presenti. Quindi un video flash giusto per dirvelo, avevamo già fatto un'immagine sul canale Telegram dove vi invitiamo ad iscrivervi proprio perché riusciamo in maniera più tempestiva a darvi queste informazioni flash. Ok, vi terremo aggiornato se ci sono sviluppi su questa vicenda, però ci tenevamo ad avvisarvi di non utilizzarle e di non versare nulla all'interno di questo smart contract. Ci aggiorniamo magari più avanti con calma. Ciao a tutti!